Ci risiamo, la decisione dell'ufficio scolastico regionale di negare una classe terza del corso serale mette a rischio di nuovo l'autonomia del Battisti di Fano. La scelta è stata presa nonostante l'istituto tecnico commerciale abbia raggiunto il numero di 612 iscritti. A considerare la situazione inaccettabile è il consigliere regionale Mirko Carloni che questa mattina ha indetto una conferenza stampa proprio di fronte all'istituto. Ecco, è arrivata ieri una lettera del direttore scolastico regionale che sostanzialmente toglie una classe già costituita di 30 per il terzo anno serale, facendo due cose gravissime secondo me. Il primo è negando il diritto allo studio, quelle 30 persone che si sono iscritte. Secondo, prendendo in giro questa città, questo istituto scolastico e se permettete anche dando un segnale diseducativo agli studenti, perché lo scorso anno si era detto che se si superava le 600 iscrizioni avrebbe avuto l'autonomia e poi questo patto non viene mantenuto in modo del tutto scorretto. È diseducativo, prosegue Carloni, il fatto di non mantenere gli impegni presi con i giovani all'interno di un sistema scolastico che al contrario dovrebbe dare l'esempio. Abbiamo fatto un'interrogazione ieri all'assessore che sembrerebbe non essere al corrente di questa vicenda in modo assurdo, abbiamo scritto però alla competente Ministero, al Ministro Giannini e al Vice Ministro Toccafondi che conosco personalmente e al Prefetto di Pesero Urbino perché è inaccettabile che ci siano 5 istituti scolastici a Pesero, 4 a Senigallia che ha 45.000 abitanti e Fano dovrebbe averne 3 di dirigenti scolastici. È un'ingiustizia inspiegabile per la nostra città e ritengo anche che l'opinione pubblica in questa vicenda giochi un ruolo importante perché non si può rimanere indifferenti di fronte a una scelta che penalizza ancora Fano.